bene buongiorno benvenuti a tutti buon pomeriggio io sono gabriele ballarino e ho il piacere e l'onore di introdurre questo webinar della SISEC il nostro speaker oggi è Guido Alfani che è professore di storia economica all'università Bocconi di Milano dove si è svolta da parte la sua carriera a partire dal dottorato in discipline economiche sociali è un corso di laurea che conosciamo bene diversi nostri colleghi di sociologia economica vengono da questo corso di laurea che è stato più volte definito il miglior corso di laurea in scienze sociali poi Guido ha fatto un dottorato in storia economica e sociale e poi ha avviato una seconda carriera di ricerca con diverse importanti periodi di visiting in grandi sedi straniere in Nuffield College di Oxford tanto per dirne una ha poi avuto importanti progetti ASI e progetti di altro tipo specializzandosi fondamentalmente nella disuguaglianza di reddito in prospettiva storica ma non solo ha lavorato molto anche sulle epidemie e sui loro effetti sulla disuguaglianza e nella prima fase della carriera anche un tema un po' diverso ma molto sociologico dal mio punto di vista cioè il padrinaggio. Ecco tra i suoi lavori recenti ricordo la monografia The Lion's Share in Equality and the Rise of the Fiscal State in Queen Industrial Europe qui la mia copia personale non della biblioteca non so perché non sia ancora disponibile in italiano forse Guido poi ce lo può spiegare poi anche un volume collettivo su Femin and in Equality in European History di immediata accessibilità sulla rete per tutti due rassegne sul journal of economic literature una sulla storia della disuguaglianza di reddito e di ricchezza da cui deriva parte del talk che ci fa oggi e un'altra invece sugli effetti di disuguaglianza dell'epidemia su questo tema l'abbiamo anche letto su diversi quotidiani nell'ultimo paio d'anni sulla lettura del Corriere della Sera ecco e mentre Guido è un eh una voce nuova per i nostri soci non lo è il nostro discassante Emanuele Pavolini che tutti conosciamo professore di sociologia economica all'Università di Macerata tra le altre cose editor dell'European Journal of Social Policy uno dei maggiori esperti italiani di politiche sociali che eh impegnato costantemente anche in questo periodo in attività di policy advising presso il governo italiano e altre istituzioni tra cui anche il sindacato. Ecco a questo punto mi taccio lascio senz'altro la parola Guido seguirà una eh discussione da parte di Emanuele e poi avremo il tempo comunque di fare anche una discussione. Ricordiamo però come al solito questi webinar terminano sharp all'orario previsto quindi alle diciotto chiudiamo d'oltre. Eh solo un annuncio diciamo per la casa per la ditta eh ricordiamoci che è aperto il call per il convegno di Bologna che chiude il quattordici febbraio giorno di San Valentino quindi ce lo si ricorda facilmente mi raccomando chi non ha ancora sottomesso è eh caldamente invitato a farlo. Ecco questo è tutto eh grazie molte a Guido Alfani per essere con noi oggi a te la parola. Molte grazie Gabriele per questa presentazione davvero Musinghiera cerco di condividere lo schermo e mentre lo faccio ne approfitto per dire che mi fa piacere che tu abbia ricordato il DESS quindi il corso di laurea in discipline economiche e sociali che eh oltre appunto ad avere frequentato come studente ho anche avuto l'onore di dirigere per sette anni quindi sono particolarmente lieto che eh di scoprire che eh nel vostro gruppo è considerato dove fosse detto addirittura il migliore corso di scienze sociali in Italia. Beh eh non so se è vero però eh grazie anche come ex direttore di questo corso di laurea. Eh e devo anche iniziare ringraziando la società per avermi invitato e ringraziando ehm l'European Research Council per aver finanziato le mie ricerche perché il tipo di ehm di ricerche che abbiamo condotto in Bocconi negli ultimi ormai circa dieci anni eh sarebbe stato assolutamente impossibile eh senza eh un consistente finanziamento perché nel momento in cui abbiamo cominciato fondamentalmente eh lavoravamo su 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 temi che erano inesplorati quindi potevamo eh fare affidamento su pochissimi studi precedenti per avere qualche ehm anche semplicemente qualche indicazione. Tant'era che quando io ho cominciato a occuparmi di questi temi eh vi era un solo studio eh su una eh una regione europea seguita in questo caso dall'inizio del cinquecento fino a metà ottocento che era l'Olanda non tutta non tutti i paesi bassi diciamo ma provincia Olanda eh uno studio della fine degli anni novanta di eh Ian Lloyd e van Zanden eh trovava un eh crescente una crescente disuguaglianza di reddito in Olanda nel corso della eh della lunga età moderna e eh suggeriva che eh fondamentalmente questo fosse dovuto a cose conseguenze della crescita economica delle province unite durante l'età moderna. L'Olanda va attraversa la sua eh età del loro eh a partire dalla fine del del cinquecento e eh per van Zanden questa crescita economica eh in qualche misura giustificava, spiegava la crescita di eh disuguaglianza di reddito e poi ci saldava con la crescita della disuguaglianza all'epoca della rivoluzione industriale, quella di cui parlava già Simon Kurz, infatti lui diceva di una specie di super curva di Kurz che parte in Olanda attorno alla metà del cinquecento. Eh e questo mi ha portato a chiedermi cosa capitava invece in aree dell'Europa meno eh dinamiche dal punto di vista economico nel suo periodo e particolare eh in Italia che ehm Italia come sappiamo eh durante l'età moderna attraversa la sua crisi poi si discute se fu una crisi relativa o assoluta ehm e sicuramente però rispetto ai suoi nuovi competitor della dell'Europa settentrionale anche i più avanzati, i stati italiani eh cominciano a segnare il passo. Eh di nuovo si discute eh sul momento in cui inizia questo processo via chi dice già all'inizio del cinquecento inizia il declino relativo. Io almeno per eh le aree più avanzate tendo a a spostare all'inizio del seicento questo questo inizio. Tra l'altro eh credo che ad esempio nel caso Repubblica di Venezia un ruolo fondamentale abbia svolto la peste nel 630 ma ecco questa diciamo è un'altra storia ma il contesto è proprio quello di aree dell'Europa che noi sappiamo che dal punto di vista quando cominciano a a divergere no? Con un nord cresce più più in modo più dinamico e un sud che invece ristagna e allora la domanda era ma che cosa accade in questo in questo sud ehm che che ristagna? E però risolvere rispondere a questa domanda richiedeva ovviamente di andare in archivio perché i dati non erano assolutamente assolutamente disponibili e ehm a parte alcuni primissimi alcuni primissimi eh sondaggi condotti ehm in particolare in Piemonte che per ragioni completamente casuali è la ragione da cui vengo io a parte questo ecco ehm è stato proprio grazie al primo progetto europeo che abbiamo potuto espandere le indagini eh concentrati su vari eh stati italiani eh preunitari eh nella parte sinistra di questa domanda vedete i quattro stati di cui vi parlerò oggi quindi lo stato Sabaudo in particolare è la regione che è l'attuale Piemonte perché non abbiamo dati per la parte saboiarda dello stato la repubblica di Venezia lo stato fiorentino e poi il regno di Napoli ma più in particolare eh la regione Puglia perché per la Puglia eh abbiamo la possibilità di utilizzare fonti analoghe a quelli disponibili per il centro e per il nord di cui vi parlerò tra breve. A parte ehm questi quattro stati vedete varie regioni bianche, varie zone bianche nella mappa in realtà noi abbiamo coperto tutto il resto dell'Italia o quasi eh semplicemente eh pubblicare questi risultati richiede molto tempo perché bisogna fare poi un lavoro rilevante sui dati perché vi sono tutte le note eh lentezze del del dei processi che porta pubblicazione e così via però abbiamo dati anche per il Lazio, le Marche, l'Umbria, la Liguria, la Lombardia e anche nel sud per la Sicilia non per altre regioni della del sud a parte appunto Sicilia e ehm e Puglia perché in molti casi eh non vi sono le fonti e questo è vero soprattutto per per regioni come la Campania dove la prevalenza della feudalità era eh molto elevata e quindi le fonti urbane che usiamo noi farò vedere un caso fra poco non sono disponibili. Poi per i Paesi Bassi eh Van Zand ha lavorato sull'Olanda, i suoi dati li abbiamo recuperati in questo caso e abbiamo invece aggiunto i Paesi Bassi Meridionali, l'attuale Belgio approssimativamente. Questo è un caso molto interessante perché dopo la rivolta ai Provinci Unite, la seconda parte del Cinquecento, rimangono sotto il dominio spagnolo, quindi comincia con una divergenza dentro i Paesi Bassi, tra il nord quindi le Provinci Unite-Olandesi e il sud i paesi bassi spagnoli. A parte questo abbiamo lavorato anche sulla Germania, sull'Inghilterra, in questo caso eh i relativi articoli stanno uscendo proprio in questi mesi, finalmente eh sono arrivati a a pubblicazione eh sulla Catalogna, sulla Francia Meridionale, questo invece richiederà ancora un po' un po' di tempo. Però insomma abbiamo una possibilità adesso di comparare molte regioni europee. Io vi farò vedere almeno il caso della Germania, l'Inghilterra no perché è completamente diverso e poi tra l'altro di in quel caso le le fonti migliori sono strettamente legate al Medioevo, quindi viene un po' meno possibilità di poi di affrontare l'età moderna e quindi come dire saldare le analisi alle dinamiche dell'età contemporanea, quindi all'ottocento il nord. Inoltre eh l'Inghilterra dispone di fonti molto diverse da quelle che noi solitamente utilizziamo che per tutta l'Europa meridionale e anche di fatto per la Germania eh sono piuttosto simili, quindi vi è una notevole eh omogeneità nelle fonti artistiche che possono utilizzare che fondamentalmente sono quelli che si chiamano solitamente estimi che sono essenzialmente registri della ricchezza tassabile che include sempre i beni immobili, quindi terre ed edifici, talvolta include anche altre tipologie, altre componenti della ricchezza, per esempio i capitali investiti nelle attività commerciali e artigianali. La cosa interessante è che nelle comunità dove le fonti hanno certe caratteristiche, quelle caratteristiche poi permangono per secoli e secoli, cioè la il il mutare della fonte nel tempo è molto limitato, specialmente dopo il quattrocento e è anche molto limitata la varianza tra una comunità e l'altra, cosa che agevola parecchio i confronti eh tra singole comunità di una certa regione o stato e anche poi in prospettiva tra stati diversi. In questo caso voi avete il caso più semplice possibile nel senso che questo è un estimo eh di Ivrea del della prima parte del seicento eh e vedete che qui in questo caso abbiamo veramente le informazioni minime necessarie, abbiamo il nome del capofamiglia e abbiamo il valore complessivo dei suoi beni tassabili. In questo caso manca l'escrizione dei beni ma per questo in questo in realtà è un registro riassuntivo mh che posso vedere per semplicità. In alcuni casi anzi solitamente abbiamo la descrizione completa dei beni e quando siamo molto fortunati abbiamo anche altre informazioni comprese di tipo diciamo sociodemografico perché nei casi veramente in questo caso eccezionali conosciamo anche l'identità di tutti gli altri membri del della household, quindi il nucleo familiare e la loro età e anche la loro relazione con il capofamiglia. Quindi qui come dire esiste la possibilità di fare anche dei lavori molto microanalitici che però al momento abbiamo lasciato da parte perché siamo ancora in una fase in cui ci concentriamo sulla come si dice in inglese la big picture perché fondamentalmente eh è lì che eh bisogna chiarire alcune cose fondamentali a mio parere. Comunque queste altre cose poi arriveranno. E allora ovviamente queste sono fonti fiscali e hanno tutti i difetti tipici delle fonti fiscali di ogni eh paese ed era eh in particolare il fatto che non possiamo dare per scontato che le registrazioni siano perfettamente corrispondenti al vero. Se voi mi potete menzionare una società in cui le fonti fiscali sono una perfetta eh una perfetta eh come dire riproduzione dell'effettiva ricchezza o reddito o capacità contributiva dei singoli eh cittadini ecco benissimo e faccio i complimenti però che non esiste ovviamente se prendiamo il caso per esempio dell'Italia è ben noto il fatto che eh non possiamo assolutamente dare per scontato che ehm tutti i redditi emergano e tutti gli immobili emergano e che il valore catastale degli immobili attuali per esempio sia corrispondente grosso modo al reale. Quindi come dire non c'è ragione di non utilizzare le fonti del passato visto che le fonti fiscali continuano a essere utilizzate per sfidare la disuguaglianza oggi eh per giunta per certi versi le fonti del passato specialmente riguarda la ricchezza sono forse più attendibili per la ragione che la ricchezza veniva tassata quindi venivano veniva osservata regolarmente in quanto era tassata cosa che non è necessariamente il caso oggi e ehm e questo creava anche un forte controllo sociale sul ehm sulla correttezza delle valutazioni di ogni singola household perché siccome la tassazione era essenzialmente gestita a livello locale quindi per esempio una singola comunità doveva pagare un tributo allo stato regionale diciamo e lo ripartiva tra i suoi eh cittadini sulla base dell'estimo eh noi sappiamo da molti casi che nel momento in cui l'estimo cominciava a non corrispondere più eh in modo ragionevole al al reale si creava si si costruiva una forte richiesta sociale di aggiornarlo e di risolvere e di risolverlo quindi diciamo questo è un problema che hanno tutte le fonti fiscali ma che non è particolarmente grave almeno nel senso di non essere diverso da quello che eh continua a caratterizzare gli studi di disuguaglianza anche per eh oggi eh la limitazione principale di queste fonti invece un'altra adesso non includono i totali nullatenenti quelli che non avendo nessun nessun bene da dichiarare non vengono registrati solitamente ora questo però appunto solitamente in alcuni casi vengono registrati quando lo vengono registrati scopriamo che sono piuttosto pochi diciamo tra il quattro e il sette l'otto per cento delle household andano a mancare e questo è perché anche chi aveva delle dei beni molto limitati per esempio una frazione una frazione di vigna o un piccolo orto era registrato ok quindi tutti quelli che avevano anche piccolissimi beni venivano registrati ehm e di fatto questo questo comporta che tutte le stime della disuguaglianza noi possiamo calcolare sulla base di distribuzioni osservate tenderanno a essere distorte verso una disuguaglianza leggermente inferiore al reale ma leggermente inferiore e mi cercherò di convincere di questo facendo rivedere il caso della Repubblica di Venezia tra un po' perché lì abbiamo una particolare abbondanza di dati su una tenente quindi si possono aggiungere alle stime e come vedrete non cambiano di modo a parte questo caso tutte le altre serie che farò vedere io sono standardizzate rimuovendo una tenente nei casi eccezionali in cui sono presenti perché questo consente fondamentalmente di comparare ehm di di migliorare la comparabilità dei dati allora comincio proprio dal Piemonte ma Piemonte Sabaudo eh che è stato il mio punto di partenza quindi sono sei piccole città del del Piemonte tra circa il 1300 e il 1800 e quello che qui vede sono appunto indici di Gini di disuguaglianza di ricchezza allora eh immagino che sappiate che l'indice di Gini che eh l'indice più comunemente utilizzato per eh misurare la disuguaglianza su una distribuzione complessiva varia tra zero che ha perfetta uguaglianza quindi tutte le household hanno la stessa ricchezza e uno che ha perfetta disuguaglianza con tutte a zero salvo una che ha tutta la ricchezza della comunità ok quindi quando sale l'indice aumenta la disuguaglianza e tutte queste città vi fanno già vedere quello che è il trend che noi troviamo tendenzialmente ovunque quasi ovunque una riduzione della disuguaglianza eh dalla metà del 300 innescata dalla peste del 300 e poi in questo caso la metà del 400 una tendenza per la disuguaglianza a crescere tornerò su questi su queste dinamiche ora a partire da queste comunità e qui non mi soffermerò sui tecnicismi a meno che qualcuno non sia interessato a partire dai dati locali abbiamo sviluppato un metodo per aggregare le distribuzioni producendo quindi non delle medie ponderate degli indici di gini che dal punto di vista statistico sarebbero intrinsecamente problematiche ma delle distribuzioni che rappresentano delle aree regionali complessive quindi che contengono varie comunità urbane e rurali e che quindi possono poi essere esplorate in vari modi si possono utilizzare per calcolare gli indici di gini potete utilizzare per calcolare la quota di ricchezza dei più ricchi o qualsiasi altra misura di disuguaglianza che possiate immaginare questo appunto il piemonte il piemonte la regione attuale o se volete l'antico stato sabaudo però ricordandosi che è soltanto lo stato come si diceva di qua dai monti quindi la parte italiana e non quella che oggi è francese vi vedete che prima si sono sviluppate due serie per il contesto urbano quella rossa e quella verde invece per il contesto urale e poi c'è quest'ulteriore ponderazione della distribuzione non dell'indice di gini che porta a produrre poi il valore per la regione sul complesso e vedete che in piemonte da quando possiamo avere una serie regionale quindi diciamo dall'inizio del cinquecento in poi la crescita della disuguaglianza di ricchezza è monotonica fino al 1800 quando dobbiamo fermarci per la semplice ragione che l'introduzione del catasto moderno interrompe le nostre serie il catasto geometrico particellare che tra l'altro il piemonte introduce molto precocemente ma fortunatamente alcune comunità continuano ad avere anche la vecchia modalità di registrare la ricchezza fino appunto alla fine del secolo fine del settecento possiamo continuare altrimenti in generale l'introduzione delle nuove modalità interrompe le nostre serie e di fatto ci rende impossibile proseguire nello studio della ricchezza oltre circa l'anno 1800 questo è il problema per cui non arriviamo ad esempio fino all'unità d'italia la prima parte della prima metà dell'ottocento sarà un grande problema in generale perché rischia di rimanere a lungo un buco nelle distribuzioni. Allora dicevo questo è il piemonte questo tipo di approccio possiamo replicare anche in altre in altre in altre zone e qui vedete subito un grafico di sintesi con i quattro stati italiani che menzionavo prima ricordando appunto che per il regno di di napoli fondamentalmente è stata solo della puglia più più i paesi bassi settentrionali e meridionali settentrionali quindi il provincio unito olandesi e meridionali quindi diciamo l'attuale belgio in questo caso però per quanto la natura dell'informazione sia non totalmente dissimile a quella che abbiamo per l'europa meridionale e per l'italia in particolare diciamo che la letteratura tende a suggerire che che i dati che sono relativi al valore di affitto delle case tendono a riflettere meglio la disuguaglianza di reddito e quella di ricchezza e questa è la ragione per cui noi vediamo una una rilevante differenza nei valori no perché tendenzialmente la ricchezza è più concentrata dei redditi quello che però è direttamente comparabile a mio parere è il trend che noi vediamo essere crescente quindi nei paesi bassi quindi nord europa e anche però in italia senza quindi riflettere quella differenza nei tassi di crescita economica che si suppone vi siano tra il nord e il sud dell'europa cioè la famosa piccola divergenza tra nord e sud dal punto di vista della crescita di disuguaglianza assolutamente non si vede tornerò sul tema ma anticipo il fatto che questo compromette di fatto l'ipotesi di spiegare la crescita di disuguaglianza preindustriale semplicemente come la conseguenza della crescita del reddito pro capite perché ad esempio in Piemonte nel seicento se va bene il reddito pro capite è rimasto piatto dico se va bene perché capita molte cose potenzialmente nocive per l'economia piemontese in quel periodo e questo anche in altre aree ovunque noi troviamo la disuguaglianza cresce costantemente nell'età moderna e questo ci ha portato poi a guardare ad altri possibili fattori che spingono disuguaglianza a salire e ci arriverò a breve prima vorrei dire qualcosa in più sulla peste del 300 allora perché specialmente in questo periodo di pandemia il tema è diventato molto rilevante perché a inizio pandemia soprattutto inizio pandemia molti dicevano beh covid è una scelgura per l'umanità ma almeno come con la peste nera potrebbe scendere la disuguaglianza in realtà questa affermazione non aveva nessun fondamento scientifico per varie ragioni la prima è che non è vero che tutte le pestilenze riducono la disuguaglianza la peste nera sì ed è però potrebbe essere l'eccezione in realtà la seconda è che lo fa grazie a un tasso di mortalità quindi la percentuale di popolazione uccisa è estremamente elevato la stima attuale che la peste del 300 abbia ucciso fino a metà circa le popolazioni dell'Europa e anche dell'Italia in questo caso voi avete delle curve di Lorenz che non so se mi sono familiari ma consentono di mostrare l'intera distribuzione quindi si ordina la distribuzione nel senso la ricchezza crescente e si va a vedere la percentuale la somma cumula percentuale di ricchezza accumulata a partire dai più ricchi e arrivando poi più cioè a partire dai più poveri arrivando poi più ricchi la curva 45 gradi è curva dell'uguaglianza perché se la nostra distribuzione ripete quella retta lì vuol dire che ad esempio il 20 per cento più povero operazione ha esattamente il 20 per cento della ricchezza complessiva per fare questa cosa per il reddito quindi più io mi avvicino alla retta 45 gradi e più mi avvicino verso una situazione di uguaglianza invece una ipotetica distribuzione che ripete gli assi vorrebbe dire che la percentuale della ricchezza accumulata è zero finché non arriva l'ultimo individuo e fa saltare a 1 la distribuzione d'accordo quindi di fatto questa è anche una rappresentazione grafica dell'indice di gini perché l'indice di gini corrisponde all'integrale della dell'area compresa tra la curva della distribuzione e la retta 45 gradi poi si standardizza in modo che abbia valore massimo di 1 ma la cosa che ci interessa qui è che noi abbiamo in questi due grafici per prato in toscana e per tolosa in francia la distribuzione più vicina alla peste del 300 prima della peste e quella più vicina dopo la peste chiaramente qui non possiamo scegliere sono fonti molto rare quelle per il 300 e già praticamente eccezionale trovare delle fonti abbastanza vicine quindi la linea continua è quella pre peste quattro atteggiate quella post peste e vediamo che dopo la peste la linea si sposta completamente a sinistra verso la perfetta verso la teorica perfetta uguaglianza quindi la retta a 45 gradi questa è la situazione più facile da interpretare di tutte perché fondamentalmente ci dice che in generale la società diventa più egalitaria praticamente ogni livello a danno esclusivamente dei più ricchi queste dinamiche della ricchezza le troviamo in toscana che è la regione per cui abbiamo una maggiore abbondanza relativa di fonti ma anche per altre regioni italiane chiuso il piemonte le marche e la romagna e troviamo anche per la francia meridionale e abbiamo indicazioni analoghe anche per la germania per quanto in germania non abbiamo fonti immediatamente pre peste ma possiamo osservare le dinamiche nel già dal 50 successivo alla peste del 300 non le dinamiche non sono artificiali possiamo dare qualche indicazione guardando utilizzando metodi per fondamentalmente valutare l'impatto di specifiche osservazioni sull'indice di Gini quindi è quello che viene fatto con metodi di di bootstrap non entro nei dettagli per ragioni di tempo ma questo questo grafico fondamentalmente vi dirà che se costruiamo degli intervalli di confidenza con questi metodi fondamentalmente vedete che non vi è nessuna ragione di dubitare del significato statistico delle dinamiche che noi osserviamo qui il grafico per Poggi Bons che è una comunità rurale vicina a Firenze tra l'altro in virtualmente tutti i casi per cui possiamo osservare l'esuguaglianza prima e dopo la peste del 300 sempre di ricchezza troviamo una riduzione dell'esuguaglianza l'altra cosa che troviamo e questo è il progetto in corso è un aumento di mobilità sociale misurata in questo caso come percentuale di household che si muovono tra quintini di ricchezza quindi è una mobilità misurata in termini relativi e vedete che dopo il 1348 quindi l'anno della peste è un nettissimo aumento di mobilità sociale che perdura per circa due generazioni quindi come dire è un impatto significativo e anche di lunga durata ovviamente questo sembra andare molto bene assieme alla riduzione dell'esuguaglianza che abbiamo misurato prima tecnicamente è molto più complicato usare la mobilità sociale voi sicuramente lo sapete perché ci obbliga al gravosissimo compito gravosissimo specialmente per il 300 di cercare di collegare in modo nominativo le household nelle famiglie di una fonte fiscale a quelle di un'altra fonte fiscale quindi il problema è poterle seguire nel tempo cosa stiamo facendo per varie parti del loro per far vedere un solo altro grafico sulla mobilità essenzialmente per ragioni di tempo e anche perché si tratta di dati ancora molto più provvisori quello che vi dicevo è relativo specialmente specificamente all'esuguaglianza di ricchezza per quanto riguarda il reddito non abbiamo distribuzioni però ci sono indicazioni di altro genere che suggeriscono che la esuguaglianza di reddito sia anch'essa diminuita in particolare via una letteratura piuttosto consistente circa l'aumento ai sali reali dopo la peste del 300 ora se noi immaginiamo un contesto in cui la metà di abitanti dell'Europa muore è facile immaginare perché i sali reali possono essere aumentati il lavoro è diventato scarso quindi i lavoratori sono trovati ad avere per un periodo il coltello dalla parte del manico che vuol dire che avevano un potere negoziale più forte e quel coltello l'hanno anche utilizzato vi sono molte evidenze nei contratti pre e post peste non necessariamente in città ma anche ad esempio nei contratti di mezzaviglia in Toscana che i lavoratori riescono appunto a strappare condizioni migliori nonostante delle resistenze perché per esempio in Toscana sono piuttosto diffuse magari questo interesserà alcuni di voi delle leggi introdotte subito dopo la peste per contrastare quelle che erano tutte le illegittime richieste dei lavoratori si chiamano infatti leggi contra laboratores quindi contro le illegittime richieste dei lavoratori qual è il problema? che ovviamente non riescono ad essere efficaci nel mediuro periodo perché a fronte a questa situazione di forza lavoro se il mio Stato mi impedisce di avere un reddito più elevato cui potrei facilmente aspirare me ne andrò semplicemente migro ma da un'altra parte e quindi di fatto questo compromette questi tentativi ma le istituzioni hanno cercato proprio di contenere questa ridistribuzione dei redditi abbastanza attivamente fallendo quindi appunto il lavoro diventa scarso i salari reali aumentano la disuguaglianza del reddito diminuisce ma diminuirà anche la disuguaglianza di ricchezza perché? perché chi prima percepiva un reddito relativamente elevato ora avrà più risorse per acquistare magari per la prima volta dei beni immobili al tempo stesso la mortalità di massa il sistema ereditario che era essenzialmente egalitario quindi i figli maschi ereditarono la stessa quota del patrimonio paterno alla morte del padre in assenza dei testamenti e le femmine anche però la ricevevano solitamente anticipata come dote ora se il sistema è regalitario automaticamente la mortalità di massa produrrà una frammentazione dei patrimoni quindi una dispersione tra più eredi ma anche una frammentazione fisica dei patrimoni che porterà più persone a vendere magari porzioni di terra troppo piccole o anche semplicemente a mettere sul mercato gli immobili in eccesso perché hanno ereditato troppi immobili questo porterà a una contrazione tendenziale del prezzo degli immobili quindi facilitando ulteriormente l'acquisto di ricchezza patrimonio da parte di chi magari sta percependo un reddito più elevato rispetto a questo quindi diciamo è il caso più semplice tant'è che non è difficile spiegare come abbia fatto la peste del 300 a ridurre la suguaglianza il problema è che questo però non accade con le grandi pestilenze dei segni successivi in particolare non accadrà con le pestilenze del 600 che in Italia ma anche nel resto dell'Europa Meridionale furono e in Germania anche furono sicuramente le peggiori dei tempi della peste della peste nera del 300 e ne arriveremo partendo dal caso della Repubblica di Venezia Gabriele menzionava il libro che è uscito un paio d'anni fa beh forse tre anni fa adesso siamo nel 2022 la Repubblica di Venezia è un caso molto interessante perché abbiamo una particolare abbondanza di dati che abbiamo potuto lavorare in modo un po' diverso dalla provincia di Padova addirittura nel 600 abbiamo tutte le household della provincia quindi divise per quelle che si chiamano podesterie che sono dei gruppi di comunità in questo caso ma abbiamo tutti quindi abbiamo potuto seguire una provincia intera nel corso del 600 quindi insomma questo ci dà anche una solidità statistica che in altre aree sarebbe impossibile e vedete che vi è un bilanciamento per regione abbiamo dati per varie province antiche da Bergamo a Verona a Padova sono le tre per cui abbiamo più dati più Vicenza e in parte anche qualcosa per Treviso ma Bergamo, Verona e Padova sono quelle per cui abbiamo più informazioni le dinamiche della Repubblica di Venezia sono comparabili a quelle che vi ho fatto vedere prima per il Piemonte questo è lo stesso grafico del Piemonte di nuovo vedete la serie per le città che possiamo far partire all'inizio del 400 per le campagne e poi quelle aggregate per tutta la Repubblica o per essere precisi per la terraferma perché questa serie non include l'impero marittimo veneziano e non include neanche la capitale perché era esente dai carichi diretti fondamentalmente non possiamo purtroppo osservare il periodo della peste del 300 perché non ci sono dati ma la stasi la disuguaglianza di ricchezza in città del 400 potrebbe essere l'ultima fase di ristagno la disuguaglianza dopo la peste del 300 diciamo che queste dinamiche sono compatibili con quello che vi dicevo che vi dicevo prima ora dicevo anche che per la Repubblica di Venezia e almeno per alcune delle comunità che abbiamo studiato abbiamo abbastanza spesso anche le informazioni sugli unatenenti quindi quelli che non hanno assolutamente nessuna assolutamente alcuna porzione di ricchezza tassabile ora quando li possiamo aggiungere ai nostri calcoli come vedete ovviamente gli indici di Gini salgono perché vengono aggiunti dei valori zero alla base della distribuzione quindi questo è statisticamente automatico ma i valori dell'indice non aumentano di molto soprattutto il trend tendenzialmente non cambia a livello di singole comunità ma anche a livello di stato nel suo complesso quindi la rina tratteggiata in questo caso è quella a cui abbiamo aggiunto una stima di nonatenenti stimate a livello di stato poi aggiunti come appunto valori zero alla distribuzione complessiva e vedete che fondamentalmente il trend è assolutamente comparabile e la tendenza la crescita costante di disuguaglianza aumenta sarebbe in realtà parecchio da dire su quello che accade specificamente ai poveri in questo momento ma per ragioni di tempo non lo faccio poi eventualmente ne parleremo ne parleremo poi parliamo in seguito ora la cosa interessante qui però è che dicevo nel mese 130 anche la Repubblica di Venezia è colpita dalla peste del trece del 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 che dicevo è stata probabilmente la peggiore in Italia del nord dai tempi della peste del trecento non colpisce il centro sud salvo la Toscana che però sarà poi colpito il centro sud da un'altra terribile pestilenza nel 1556 le due ondate di peste non si se lo appongono affatto che epidemiologicamente è anche molto interessante non c'è di poter parlarne la cosa interessante è che mentre la stima complessiva della mortalità della peste del seicento scusate nel nord è del 35% quindi più di un terzo di abitanti la pubblica di Venezia è addirittura del 40% e in molte città arriviamo a superare il 50% quindi come dire non così lontana dalla peste del trecento che causa la mortalità di circa il 50% ci aspetteremo quindi una tendenza che invece assolutamente non troviamo e non la troviamo neanche appunto a livello di singole comunità vedete qui prima e dopo la peste sempre prendendo le osservazioni più prossime la disuguaglianza città che vanno da ovest ad est del nord Italia continua ad aumentare abbiamo anche un caso di un caso placebo perché a Chierasco per quanto ne sappiamo la peste non arriva e la città per cui abbiamo una ragionevole certezza che la peste del seicento non sia arrivata tant'è che firmano il trattato di Chierasco che è uno dei trattati conclusivi della guerra di afficciazione di Mantua che è l'evento militare che aveva portato la peste a entrare a entrare in Italia dalla Germania dalla Francia dove era già arrivata nei due anni precedenti quindi come dire non abbiamo nessuna evidenza di una contrazione di disuguaglianza in realtà nei rarissimi casi in cui possiamo misurare disuguaglianza anno per anno troviamo una molto temporanea riduzione di disuguaglianza ma già a distanza di 5-6 anni è stata più che colmata quindi quando noi non abbiamo questa possibilità e osserviamo magari la disuguaglianza di ricchezza 5 anni prima della peste e 10 anni dopo un'eventuale riduzione delle disuguaglianze in breve periodo viene completamente cancellata dalle dinamiche la cosa interessante è che questa è la ricchezza ma se guardiamo ai redditi quindi ai salari reali troviamo la stessa cosa quindi a sinistra avete il caso della peste della peste del 300 a sinistra avete il caso della peste del 600 tra l'altro anche specificamente a Milano dove la mortalità stimata per la peste del 600 è oltre il 50% e ho messo anche Valencia che è colpita una mortalità mi pare di circa il 40% nel 147-48 e per entrambe le città noi abbiamo le serie dei salari reali locali vedete che non vi è alcun incremento dei salari reali quindi di nuovo non abbiamo quell'impatto sul mercato del lavoro che ci aspetteremmo se immaginassimo che la dinamica è uguale a quella della peste del 300 perché i livelli di mortalità sono comparabili questo aiuta anche a spiegare perché non abbiamo una riduzione di disuguaglianza di ricchezza quindi i stati più bassi non hanno in questo caso più risorse da utilizzare per giunta c'è un altro fattore molto a mio parere rilevante i sistemi ereditari in Italia non solo sono rimasti in teoria egalitari quello che però è avvenuto tra il 300 e il 600 è che nel momento in cui le grandi famiglie le famiglie più ricche si sono rese conto che la peste era diventata una caratteristica ricorrente della vita in Europa perché la peste diventa endemica al continente europeo si adattano tutte le specie si adattano a un mutamento al loro ambiente biologico il meteorologico era mutato perché appunto la peste era diventata endemica ma gli uomini essendo uomini si adattano anche con un attivamento alle loro istituzioni e quindi cosa fanno? dicevo il sistema ereditario rimane in teoria egalitario ma quello che in pratica viene fatto è che le famiglie più ricche sistematicamente istituiscono delle come dire le corono istituzioni in particolare i decommessi ma vi sono anche altre istituzioni che possono essere utilizzate per ottenere risultati analoghi in cui si dice che la parte principale del patrimonio verrà trasmessa da una generazione all'altra indivisa gestita in teoria nell'interesse di tutto il gruppo di fratelli dal fratello maggiore e questo per sempre poi in pratica finché non arriva Napoleone e dissolve gli ultimi fidi commessi rimasti per anche la possibilità in caso eccezionale di dissolverli prima ma insomma viene una durata in queste istituzioni quindi qual è il punto nel momento in cui si si rende conto che l'ambiente è mutato è diventato molto più ostile all'uomo come dire la reazione delle grandi famiglie è quella di cercare di proteggere la loro discendenza ma ovviamente non possono proteggere la vita dei singoli discendenti quello che possono fare è proteggere il patrimonio ma come dicevano i giuristi dell'epoca famiglia i dest substanzia quindi la famiglia e il patrimonio io proteggo la famiglia proteggendo il patrimonio da quel tipo di frammentazione non voluta che so può essere causato da un evento che io magari non m'attendo ma rapidamente colpisce la mia città e a quel punto se la mortalità è del 50% ovviamente diventa una come dire il corrente di lanciare una una moneta è sperare che non riesca a croce fondamentalmente quindi questo anche è mutato e nella storiografia sui sistemi ereditari a partire proprio dai in questo caso dagli atti notarivi noi vediamo che c'è una intensificazione nel ricorso ai file commessi proprio dopo la peste del 300 che viene interpretata come una reazione rispetto all'arrivo della peste in Europa quindi il contesto è completamente diverso l'altra parte della storia è che in questo momento la concorrenza dei paesi nord Europa è molto più accentuata quindi come dire la peste del 300 nella mia interpretazione della piccola divergenza diventa anche il momento in cui molti che hanno cercato di tenere botta fondamentalmente di tenere il passo della concorrenza gettano la spugna e quindi noi abbiamo un crollo nella offerta di lavoro perché molti lavoratori sono morti ma abbiamo anche ancora una domanda di lavoro perché fondamentalmente alcune famiglie mercantili per esempio decidono di abbandonare la mercatura di abbandonare l'industria sostanzialmente e si mettono a investire guarda caso nella terra tra l'altro in questo caso in questo modo aumentando ancora di più la concentrazione dei della ricchezza quindi del patrimonio immobiliare nelle mani di poco per quanto riguarda la proprietà sociale troviamo una storia analoga questa è Ivrea di nuovo per ragioni assolutamente casuali Ivrea è il posto da cui vengo io e per ragioni assolutamente casuali è la prima comunità che ho studiato ma è per ragioni in questo caso veramente assolutamente casuali e probabilmente al mondo una delle comunità che ha le fonti migliori per questi studi perché Ivrea è in pochissimi casi in cui è possibile seguire la misurale l'usuguaglianza di ricchezza di tutti fondamentalmente in teoria giorno per giorno dall'inizio del seicento alla fine del secolo io l'ho fatto anno per anno e chiaramente e oltretutto è anche molto molto facile collegare nominativamente le famiglie in questo caso e qui vedete un grafico ancora provvisorio che va affinato anche nella misura della mobilità sociale sempre misurata come percentuali di famiglie che si muovono tra quintini da un'istribuzione di ricchezza e il fatto è che noi vediamo un picco nel 30-32 quindi legato proprio all'evento peste ma poi vedete che viene subito riassorbito e la tendenza nel seicento è più una mobilità sociale declinante in corso del secolo nonostante questa botta di mobilità causata dalla peste ora a Ivrea si può studiare anche anno per anno sguaglianza di ricchezza troviamo una una riduzione di sguaglianza di brevissima durata già colmata dopo 5-6 anni esattamente la scena che vi dicevo prima se io non ho fonti sufficientemente vicine all'evento non sono in grado di vedere alcun impatto in questo caso una cosa importante è che l'impatto sulla novità sociale della peste del seicento a Ivrea ma anche ad esempio a Verona che è una grande città che abbiamo studiato proprio in questa prospettiva stiamo studiando non è assolutamente comparabile a quell'aumento che dura per due generazioni che abbiamo trovato per la peste del trecento quindi di nuovo abbiamo un ulteriore indizio del fatto che il contesto è fondamentale non possiamo semplicemente presumere che dato che il morbo il patogeno è lo stesso la mortalità è comparabile l'esito in termini distributivi sarà il medesimo tra l'altro non solo distributivi ma anche in termini ad esempio di stimolo o danno all'attività economica nel lungo periodo si tratta di storie completamente diverse il contesto è fondamentale il contesto istituzionale in particolare è fondamentale e media l'impatto dello shock causato in questo caso dallo testo allora a parte dicevo questo questo momento come dire è considerato questo shock vedete che la disuguaglianza pubblica di Venezia ma anche in Piemonte altrove aumenta nel corso del 600 aumenta in generale nel corso di tutta l'età moderna la parziale eccezione a livello europeo è quella della Germania perché in Germania abbiamo di nuovo la peste la stessa peste che colpisce il nord Italia nel 1630 ma lì inizia un po' prima già nel 27-28 la Germania è colpita molto duramente è colpita ancora più duramente perché la peste è diffusa ancora più e in generale i suoi effetti si combinano con quelli della terribile guerra dei 30 anni che fu l'evento militare l'evento bellico più terribile di tutta la storia medievale e moderna dell'Europa quindi costituisce di fatto un'eccezione ed è eccezionale perché anche perché in combinazione con la peste produce una riduzione di disuguaglianza simile a quella che avevamo visto per la peste del 300 quindi vedete nel caso della Germania abbiamo fasi comparabili a quelle trovate in Italia tranne la fase 3 in questo caso tranne il 600 in cui c'è una riduzione di disuguaglianza proprio perché il contesto è eccezionale e la guerra eccezionalmente devastante si salda con la peste e ottiene questo effetto di livellamento per usare l'espressione di di Wolterscheider anche qui vedete l'impatto della peste del 300 appunto non abbiamo osservazioni pre peste ma quello che accade subito dopo suggerisce che la disuguaglianza sia entrata in un percorso di riduzione per effetto della peste che dura per alcuni decenni poi dopo dopo la peste torniamo ora però al al confronto più generale dicevo e concentriamoci sull'età moderna perché per quel che riguarda il tardo medioevo le cose sono abbastanza chiare quindi abbiamo una riduzione disuguaglianza per la peste del 300 abbiamo visto che un evento comparabile nel 600 in un contesto mutato non è più in grado di produrre gli stessi risultati la Germania apprezzò l'eccezione ma che cosa spiega allora la crescita della disuguaglianza sia al nord sia al sud dell'Europa visto che dicevamo il reito pro capite vero semplicemente non è una buona spiegazione ora vi sono varie possibilità non non le esplorerò tutte per ragioni di tempo però in generale la mia impressione è che in questo contesto storico quindi in età moderna sia molto più facile per l'isuguaglianza aumentare che diminuire e in questo contesto ci siano vari fattori che possono spingere la disuguaglianza ad aumentare vari fattori diciamo varie condizioni sufficienti magari nessuna condizione necessaria però quindi se è veramente più facile che l'isuguaglianza aumenti piuttosto che diminuisca allora magari effettivamente in Olanda aumenta principalmente per effetto le questione economiche e in altre aree vi sarà qualcosa di diverso detto questo però vi è almeno un fattore che è sicuramente comune a tutte queste aree e che sicuramente porta all'aumento della disuguaglianza ed è la crescita dello Stato fiscale militare ora cosa accade con l'età moderna a partire dalle guerre d'Italia che inizia nel 1494 quando Carlo VIII scende in Italia per i venditori e finiscono nel 1559 con la faccia di Cato Cambresi noi abbiamo un aumento delle dimensioni efficienti degli eserciti e un aumento del costo degli equipaggiamenti militari perché cambia la tecnologia militare fondamentale l'effetto combinato di questi due meccanismi rende la guerra molto più costosa che cosa succede dunque che tutti devono tassare di più perché devono essere in grado se non altro di difendersi lasciando anche i piccoli stati italiani che magari esitano a cercare di proiettare il loro potere militare fuori dai loro confini in questo contesto perché hanno paura dei giganti europei devono potersi difendere quindi tutti cominciano a tassare di più e tutti stanno giocando lo stesso gioco quindi lo fanno indipendentemente dalle condizioni della loro economia quindi anche stati in stagnazione economico devono aumentare la tassazione pro capite e per quale ragione questo è rilevante perché se guardiamo come sono fatti i sistemi fiscali preindustriali ci rendiamo conto facilmente che sono regressivi quindi i ricchi non tassati proporzionalmente meno dei poveri ma se questo è vero più il tasso in termini pro capite e maggiore sarà la tendenza a estrarre dal sistema di usuguaglianza e quindi maggiore la pressione verso un crescente aumento delle disuguaglianze nel tempo una nota sul pil pro capite io non sono come dico solitamente l'inglese uno strong believer nelle ricostruzioni esistenti del pil pro capite per età preindustriale che hanno da un puntista storico e anche documentario tutta una serie di problemi questa slide però sarà farvi vedere che se prendiamo le stime più recenti disponibili per le aree di cui vi ho parlato vedete che con la possibile parziale eccezione dell'Olanda sono fondamentalmente piatte quindi non c'è assolutamente nessuna ragione di ritenere la base di queste stime che il pil pro capite possa aver spinto la disuguaglianza ad aumentare in Italia ma anche ad esempio in Belgio cioè nei paesi bassi e meridionali quindi mettiamo da parte il pil pro capite come possibile spiegazione generale invece qui abbiamo la crescita la pressione fiscale pro capite misurata in termini più o meno comparabili per diverse parti d'Europa e vedete che ovunque aumenta perché tutti giocano lo stesso gioco l'Ecupine di Venezia inizia a metà 500 come lo Stato uno dei Stati europei che tassano di più in termini pro capite quindi anche la capacità fiscale più elevata e poi come gli altri aumenta la stazione pro capite di fatto lo fa anche meno degli altri in termini proporzionali però il percorso è chiaro ed è chiaro come dicevo ovunque quindi se i sistemi sono regressivi automaticamente un aumento della pressione fiscale porterà a più a estrarre più disuguaglianza tra l'altro questo lo farà anno su anno con poi dei meccanismi che portano a disuguaglianza ad accumularsi da un anno all'altro ora qual è l'altro volato della 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 medaglia però la spesa ovviamente io potrei avere questa stazione regressiva ma una spesa fortemente redistributiva in termini progressivi quindi potrebbe compensare questa regressività ad esempio andando principalmente nelle tasche dei più poveri tutto ma poi non è questo il caso non è questo il caso perché la ragione per tassare di più è fondamentalmente pagare le spese militari di difesa che a mio parere tendono a concentrarsi ad aumentare la disuguaglianza perché concentreranno in certe parti l'operazione questo poi è relativamente difficile a dimostrare quello che è più facile dimostrare è che l'altra voce che cresce moltissimo in questo periodo che è il servizio del debito pubblico questo invece sicuramente porta ad aumentare la disuguaglianza perché il debito pubblico è posseduto da privati ed è estremamente concentrato lo è sempre stato in età preindustriale e quando possiamo misurarlo è la componente della ricchezza più concentrata più della terra fondamentalmente e in molti stati inclusi da quelli che di Venezia qui erano dei limiti all'ammontare minimo che bisognava possedere di debito pubblico se si voleva acquistarne che fondamentalmente mettevano fuori gioco tutti i piccoli e medi risparmiatori quindi era un gioco strettamente a favore della parte pubblica popolazione per la Repubblica di Venezia ho cercato nel libro con Matteo Di Tullio di guardare come funzionava in pratica questo sistema con una serie di fattori di nuovo per ragioni di tempo vi menziono solo quali sono le maggiori fonti di regressività prima di tutto vi è una parte dei beni che sono esenti nel pubblico di Venezia in realtà pochi perché nel pubblico di Venezia i beni feudali sono pochissimi sono quasi assenti e soltanto in certe aree in generale i beni esenti sono pochissimi abbiamo stimati come al massimo il 5% del patrimonio del 5% più ricco di cooperazione quindi pochi ed è una stessa per eccesso in questo caso è molto più importante però il fatto che la tassazione fosse prevalentemente indiretta quindi sui consumi o per meglio dire noi la mettiamo tutta sui consumi ma anche quella sui transiti alla fine si può immaginare venga scaricata sul consumatore finale e come sappiamo questo tende a rendere la regressiva perché fondamentalmente per una estensione della legge di Engel che dice che la quota di reddito consumato per bene di prima necessità tende a diminuire l'aumentare del reddito ma in generale il punto è che se io immagino che il tasso di risparmio aumenti all'aumentare del reddito allora io avrò che chi sta sotto una certa soglia vicino a sussistenza dovrà per forza consumare il 100% del suo reddito e quindi sarà tassato sul 100% del suo reddito in questo modo quindi indirettamente chi invece risparmia sottrarrà una parte del suo reddito a questa forma di tassazione quindi abbiamo stimato su base di dati dei pochi dati disponibili ma insomma su base di qualcosa di reale la percentuale di reddito risparmiato dal 5% più ricco che è tra il 20 e il 40% poi stimato tra la parte di popolazione che possiamo considerare sia sussistenza e quindi abbia un tasso di risparmio di zero e il 5% più ricco abbiamo stimato la quota di risparmio per diciamo percentiere di distribuzione con una curva una legge esponenziale e quindi abbiamo ricavato questo primo elemento un altro elemento importante è che sistematicamente gli abitanti delle campagne erano svantaggiati quindi erano attassati un po' più gli abitanti delle città questo perché già dal medioevo le città avevano acquisito il controllo anche politico e sociale sulle campagne quindi cercavano attivamente di spostare il preso fiscale dagli abitanti delle città appunto a quelle delle campagne diciamo più o meno soggette alla primazia della della città l'altra cosa che facciamo che vale appena menzionare è che per semplicità utilizzo la stessa distribuzione per ricchezza e reddito questa è un po' una forzatura una distribuzione del reddito si potrebbero distinguere un po' le due ma se lo faccio posso con molta maggiore facilità mostrarvi i dati e lo farò tra breve questo grafico qui è semplicemente relativo alla imposizione del prelievo vedete la linea nera e la percentuale di tassazione indiretta tra l'altro la tassazione diretta è esclusivamente sulla ricchezza ed è effettuata tramite gli estimi quindi esattamente tramite la fonte che noi utilizziamo quindi in questo caso possiamo veramente vedere in modo molto preciso su chi grava e quanto e se mettiamo assieme le varie ipotesi possiamo arrivare ad un insieme di ipotesi meno regressivo che fondamentalmente vuol dire che i ricchi risparmiano un po' meno e gli abitanti delle campagne sono danneggiati un po' meno in termini relativi quindi relativamente abitanti delle città o più regressivo quindi i ricchi risparmiano di più e gli abitanti delle campagne sono più danneggiati quindi le due ipotesi e l'idea è che magari la realtà stia nel mezzo il fatto come dicevo di aver usato entrambe la stessa distribuzione per ricchezza e reddito mi permette di arrivare a una stima della pressione fiscale complessiva per per sentire la ricchezza come somma di quella indiretta e quella diretta quindi non commenterò tutto il resto qui avete evidenziato in questa tabella il totale ora noi sappiamo che al 1550 da una stima indipendente la pressione fiscale dello stato centrale della terraferma veneziana era circa il 5% del prodotto il 5% l'ho redistribuito per decile considerando la struttura della tassazione e arriviamo a dire che il 10% più povero pagava tra il 5,4 e il 6% del proprio reddito come tasse centrale il 5% più ricco soltanto tra il 3,9 e il 4,4 e la differenza piuttosto rilevante specialmente perché è ciò che accade anno dopo anno dopo anno per secoli ora però come è possibile che il sistema stia in piedi senza avere una rivoluzione per le mani beh sta in piedi perché i ricchi pagano più tasse dei poveri il 5% più ricco paga quasi la metà di tutte le tasse il problema è che aveva anche più della metà di tutta la ricchezza e guadagnava anche più della metà di tutto il reddito i più poveri di fatto contribuiscono in termini totali molto poco perché sono protette la loro povertà non hanno capacità fiscale in questo contesto socio-culturale è sufficiente che i ricchi paghino più dei poveri perché il sistema sia considerato accettabile e questo è ciò che accade tra l'altro è anche accettabile perché i poveri non sono lasciati a morire di fame i ricchi restituiscono qualcosa tramite la loro carità che è mediata da un sistema di beneficenza complesso che poggiava su quell'escalano con fraternità all'epoca tramite cui parte delle risorse poi tornava dal vertice alla base della società se nessuno moriva di fame la pace sociale era accettata ma proprio perché l'idea era che fosse sufficiente per ottenere una certa giustizia del sistema che i ricchi pagassero più dei poveri non proporzionalmente più dei poveri che quello che almeno molti in occidente ritengono dovrebbe essere il caso oggi nel contesto di una democrazia occidentale cosa peraltro interessante è che quei ricchi in occidente che oggi sostengono che non serva un aumento di tassazione sui ricchi perché già pagano molte tasse fondamentalmente fanno un discorso totalmente compatibile con quello che farebbe un patrizio veneziano attorno a metà del 500 che poi questo sia un discorso che noi possiamo considerare o no egittimo accettabile è tutto un'altra questione ora questo è come dire quello che noi vediamo andando a vedere la differenza tra la percentuale di ricchezza posseduta e il reddito guadagnato e la percentuale di tasse pagata questo grafico vi dice che fondamentalmente in questo sistema gli unici avvantaggiati sono i più ricchi il 5% soprattutto ma anche il 5% successivo quindi fondamentalmente il 10% più ricco della popolazione è avvantaggiato in termini relativi tutti gli altri tendenzialmente pagano più tasse in proporzione rispetto a quelle che dovrebbero pagare il sistema forse proporzionale non progressivo ok questa differenza rispetto alla teorica proporzionalità che non è assicurata molti erano convinti che fosse assicurata perché ad esempio la tassezione diretta era in teoria proporzionale alla ricchezza salvo che poi appunto c'erano i beni privilegiati che non pagavano per un massimo ma va bene l'altra cosa rilevante qui è che i gruppi che sembrano essere colpiti più duramente dal sistema sono i gruppi intermedi quindi il ceto medio dell'epoca se vogliamo usare impropriamente questa definizione però i più poveri perché i più poveri pagano pochissimo pagano pochissimo perché non hanno capacità fiscale e il fatto è che se questo è vero allora si capisce perché nel corso dei secoli questa metà del 500 noi vediamo un progressivo svuotamento del ceto medio e una polarizzazione della ricchezza fondamentalmente chi sta in mezzo a metà 500 dato che poi la tassazione comincerà ad aumentare perché c'è lo sviluppo dello stato fiscale militare siccome la guerra diventa molto più costosa eccetera eccetera chi sta in mezzo o riesce ad andare a spostarsi al vertice quindi a proteggersi dal sistema riuscendo anche di fatto a controllare in parte il sistema oppure tenderà a essere sparato verso il basso se noi facciamo evolvere il sistema e guardiamo cosa accade nei due secoli successivi allora la struttura del sistema non cambia molto quello che cambia è chiaramente la distribuzione sottostante e vediamo che apparentemente lo svantaggio patito da tutti tranne i più ricchi diminuisce e il vantaggio dei più ricchi anche diminuisce ma questo perché accade? Accade semplicemente perché la disuguaglianza è aumentata quindi qual è il punto? Che se io immaginassi di continuare questa dinamica all'infinito arriverà alla fine alla perfetta proporzionalità ma sarebbe una società in cui in cui soltanto il 5% più ricco ha beni o reddito per tutti gli altri sarebbero fondamentalmente a zero perché il sistema continua a concentrare la ricchezza nei mari dei più ricchi la quota di tasse pagate dai più ricchi continua ovviamente ad aumentare ovviamente sempre per ipotesi arriveremmo alla fine di un politico percorso con loro che pagano tutto ma possiedono anche tutto quindi di nuovo cerchiamo di immaginare che cosa vuol dire questo anche per alcuni dibattiti attuali e dicevo quello che non sappiamo non siamo riusciti a stimare è quanto cambi la spesa privata in beneficenza probabilmente aumenta compensando in parte questo declino dell'accesso effettivo alle risorse dei più poveri perché noi sappiamo che viene garantita viene conservata una certa stabilità sociale a pubblica di venenza quindi l'accesso alle risorse dei più poveri non cambia in pratica molto all'aumento della disuguaglianza perché non sono riusciti a morire di fame il problema però è che dipendono sempre più dal benvolere dei ricchi cioè è un sistema in cui sono sempre più socialmente economicamente e anche politicamente ma questo forse cambia di meno dipendenti dai vertici della società in un sistema che evolve in direzioni che noi possiamo considerare magari non auspicabili e io ho anche un po' volutamente presentato il funzionamento del sistema in modo un po' un po' duro che però di fatto sembra corrispondere molto bene alle dinamiche che osserviamo ho cercato di fare la stessa operazione per altre parti dell'Europa questo sarà molto veloce e forse il mio articolo che ha risentito maggiormente della pandemia perché questo lavoro l'ho assolutamente dovuto interrompere per continuare su altre direttrici ma l'idea è potrei far vedere che la stessa cosa si applica anche ad altri stati la struttura della fiscalità era regressiva anche nel pubblico olandese forse meno specialmente nel seicento rispetto al pubblico di venezia ma l'impatto complessivo della fiscalità sulla distribuzione più forte pubblica olandese è semplicemente perché lì cominciano a tassare poi molto di più di proporzione al pubblico e poi anche la Francia meridionale e altri stati che stanno diversamente aggiungendo il quadro però sostanzialmente è sempre lo stesso e appunto per ragioni di tempo vado oltre vi faccio vedere questo questa è una stima della spesa sociale del pubblico di venezia tra il 500 e la fine del 700 ora qui siamo stati io e il mio coautore molto generosi a classificare come spese sociali certe voci di spesa per esempio quelle per la per le strutture della sanità pubblica strutture centrali della sanità pubblica oppure le beneficenze date in diverse parti del territorio della Serenissima ma anche essendo molto generosi vedete che è molto inferiore all'1% del prodotto scusate all'1% del budget del strato centrale fino alla fine del 700 come diventa leggermente superiore all'1% la parte del leone la fanno invece le spese per il militare per la difesa e il servizio del debito pubblico secondo la modalità di cui vi parlavo prima quindi diciamo non c'è nessuna ragione di pensare che la spesa sociale abbia compensato la tendenza all'aumento di disuguaglianza che risulta dal funzionamento del sistema fiscale ora questo salto perché vi ho già parlato un altro modo di vedere questi questi meccanismi è considerare quella che si chiama l'estrazione della disuguaglianza e la curva della disuguaglianza massima possibile quindi l'idea è questa noi non arriveremo mai veramente a un indice di Gini di 1 specialmente ragionando in termini di reddito per questo vorrebbe dire che tutti sono morti di fame tranne una famiglia o un individuo quindi il punto è che il valore massimo dell'indice di Gini che noi possiamo realisticamente immaginare sia tutta la società corrisponde alla situazione in cui tutti ricevono sussistenza tranne una famiglia o individuo che riceve tutto il surplus sopra la sussistenza ovviamente quindi il valore massimo possibile l'indice di Gini tenderà ad aumentare con il reddito pro capito perché vuol dire che aumenta il surplus e percorre questa curva la IPF nei quanti possibiliti frontiere quindi il punto è che non ci interessa soltanto sapere quanto qual è il valore immediato dell'indice di Gini ma anche qual è il valore dell'indice di Gini rispetto all'ipolitico massimo che esso avrebbe se tutti appunto fossero sussistenza tranne uno quindi vogliamo sapere quanta della possibile disuguaglianza effettivamente estratta da una certa società questo è importante per me perché prima di provare a studiare i meccanismi ridistributivi della Repubblica di Venezia ero immaginato più in teoria come poteva essere sì essere possibile che l'Olanda e il Piemonte Sabaudo avessero dei percorsi molto simili in termini di disuguaglianza e però molto dissimili in termini di retrocapite specialmente nel corso del Seicento e il punto è io posso avere lo stesso aumento di sedigini quindi il movimento da P a P2 sarebbe il Piemonte nel Seicento e da H a H1 sarebbe Hollande quindi Olanda sempre il corso del Seicento aumentano in questo caso nella stessa quantità è un grafico ipotetico ma il Piemonte diventa proporzionalmente molto più vicino al massimo possibile e quindi sostanzialmente diventa una società molto più estrattiva e questa idea di estrazione di disuguaglianza va veramente a braccetto con l'idea di società estrattiva e ci c'è qualcosa anche in termini meno intuitivi sull'organizzazione sociale di queste comunità quindi l'idea di fondo qui è che io posso avere lo stesso aumento di disuguaglianza ma se ce l'ho in un'area che cresce quell'area potrebbe essere rimasta politicamente socialmente economicamente molto più aperta rispetto a un'altra in cui fondamentalmente il sistema diventa quasi tanto brutale quanto potremmo immaginare mai quanto potremmo immaginare potesse mai diventarlo perché appunto c'è questo vincolo costituito da dare a tutti la sussistenza e quindi se immaginiamo questi percorsi questa diceva una curva ipotetica però poi possiamo provare a stimarla sulla base di atti disponibili e quello che vediamo è proprio questo tendenziale aumento dell'estrazione una disuguaglianza negli stati italiani in questo caso tutto fiorentino è stato sabaudo mentre specialmente l'Olanda ma anche l'Inghilterra avrebbero invece un movimento che consente di conservare una facilità in qualche misura forse più aperta sicuramente meno estrattiva ma appunto si può anche dare un'interpretazione sociopolitica di questa cosa ovviamente tutto questo va anche a braccetto molto bene con un'idea che io ho e che stiamo cercando di verificare ma farebbe conferma di atti disponibili relativa alle dinamiche comunità sociale perché la comunità sociale diventa come tendenza declinante in Italia almeno a partire dalla fine del Cinquecento ma in Olanda nei Paesi Bassi sembra essere molto più facile per tutto il resto dell'età moderna quindi questo è un altro elemento di differenziazione tra questi diversi contesti storici che non potremmo non potremmo cogliere quando soltanto alle dinamiche della disuguaglianza ma dobbiamo andare a vedere cosa quei numeri quegli ciligini vogliono dire in pratica rispetto a quella specifica faccio vedere un ultimo grafico e poi mi fermo perché penso che è stato fatto fin troppo ed è questo è il grafico come dire spiace a tirarsi meno scientifico a tutti quelli che vi faccio vedere perché la linea rossa è una media delle mie serie per gli stati italiani la linea verde invece è l'Europa occidentale di Picchetti che fondamentalmente è una media di Francia Inghilterra Svezia Meridionale e però in entrambi i casi è la quota di ricchezza del 10% per la corporazione e diciamo vediamo che per quanto vi sia una sorposizione esattamente pari a zero tra le aree considerate la continuità sembra impressionante quindi prendiamo questo grafico per buono ma cosa ci dice? Beh ci dice fondamentalmente che c'è una tendenza di lunghissimo periodo fondamentalmente più di sette secoli della disuguaglianza di ricchezza ad aumentare interrotta soltanto da due terribili catastrofi la pesta del 300 e la prima e se quale del mondo mondiale è tutto quello che accade in mezzo nel ventesimo secolo distruzione di capitale umano nel primo caso principalmente capitale fisico e finanziario nel secondo caso quindi come dire si tratta di shock intrinsecamente differenti che però hanno entrambi questa caratteristica allora una possibilità una possibile interpretazione di questo grafico è piuttosto pessimista ed è quella che ne darebbe ne ha dato in effetti Walter Scheidel quando fondamentalmente i dati che vi faccio vedere io per l'Italia e cioè che soltanto le catastrofi possono ridurre la disuguaglianza la mia interpretazione è forse più ottimista beh da un lato però devo dire che neanche tutte le catastrofi riducono la disuguaglianza ricordiamoci il 600 quindi le peste il 600 in questo grafico molto aggregato non lascia neanche una piccola tacca sulla serie quindi come dire manca sicuramente un pezzo però quello che a mio parere i dati per la pre-industriale e anche quello che noi sappiamo circa il 900 ci suggeriscono è che vi è uno spazio di fatto importante per la agency umana quindi per le per le scelte individuali perché nel ventesimo secolo la disuguaglianza dopo la seconda guerra mondiale continua a diminuire per circa due decenni e solitamente si ritiene che questo sia in Europa occidentale associato allo sviluppo dello stato sociale mentre in età pre-industriale abbiamo visto che un probabile fattore di stimolo all'aumento di disuguaglianza è proprio l'assetto istituzionale che è volutamente costruito in un modo che avvantaggia le elite economiche sociali e politiche quindi è una scelta aumenta la disuguaglianza perché qualcuno ha organizzato il stesso tema in un certo modo quindi non è una naturale tendenza c'è una parte molto importante di questa storia che ha a che fare con istituzioni politica e organizzazione sociale ora per farla breve il punto è che a mio parere la storia ci dice due cose ovviamente non ci dice se noi dobbiamo o no aspirare a una minore disuguaglianza quella poi diventa una scelta politica e lì scientificamente io mi fermo perché non è il mio mestiere in questa sede parlare di politica ovviamente però ci dice che se non interveniamo la storia non ha non ha nessun supporto all'idea che la disuguaglianza diminuera da sola quindi le idee che originano tutte alla fine nella vecchia ipotesi di Simon Kuznet che suggerisce che la disuguaglianza dopo certi dati di reddito automaticamente tenderà a diminuire ecco queste di fatto hanno un supporto empirico che ormai sappiamo essere veramente debole anzi tendenzialmente possono essere rigettate sulla base dell'evidenza storica dice anche al tempo stesso che noi abbiamo la possibilità di incidere sulle dinamiche distributive principalmente tramite le nostre istituzioni tra le quali principalmente i sistemi fiscali e questo mio parere è molto rilevante in una fase in cui si ragiona sempre di riforma di sistemi fiscali e anche dell'opportunità o meno di almeno in una logica di emergenza aumentare il prelievo sui ricchi o su quelli che sono beneficiati in qualche misura della crisi tema su cui si potrebbe continuare a parlare non lo faccio chiudo soltanto dicendo che l'aspettativa relativa a covid-19 mia e dei miei colleghi che cercano di queste cose è che spontaneamente una pandemia come covid tenderebbe ad aumentare non a ridurre le disuguaglianze perché per due ragioni uno non uccide abbastanza da creare uno shock al mercato del lavoro tale da cambiare il quadro come è successo con la testa quindi fortunatamente questo è un problema due tende per varie ragioni a colpire maggiormente chi ha i lavori meno stabili quindi più fragili e i riti più bassi stesso stessa dinamica che si è verificata dopo la spagnola del 1918-19 che epidemiologicamente e tra le grandi pandone del passato è quella più simile a covid-19 in cui alcuni studi cominciano a suggerire effettivamente che ci fu un aumento non una riduzione della disuguaglianza dopo la dopo la spagnola chiaramente il problema lì è che si arrivava alla fettazione dell'economia di guerra quindi stimare l'impatto della pandemia è molto difficile nel caso della Svezia che era neutrale in prima guerra mondiale un studio molto interessante ha mostrato come per ogni morto di spagnola che furono tre nuovi poveri definiti come persone che ebbero bisogno di un'assistenza pubblica per sopravvivere dato che si tratta di centinaia e migliaia di morti di spagnola in Svezia potete facilmente immaginare che l'impatto sulla povertà della spagnola fu molto elevato ovviamente nel caso di covid non conta soltanto la mortalità non conta soltanto l'impatto full sugli individui ma conta anche in un uomo moltissimo come le politiche introdotte per contrastare covid mediano gli effetti della pandemia quindi non è detto che nel medio periodo la disuguaglianza aumenterà covid lasciato agire da solo tenderebbe ad aumentarla ma gli interventi posti in atto almeno alcuni di essi sono specificamente volti a contrastarne almeno alcuni effetti negativi poi ovviamente di questo si potrebbe parlare praticamente all'infinito mi scuso se ho parlato troppo e mi fermo qui grazie 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 molto guido ora diamo subito la parola a Emanuele Pavolini il discussant pregandolo di contenersi al massimo un quarto d'ora per lasciare un pochino di tempo almeno per il dibattito prego Emanuele grazie Gabriele sarò più breve o almeno cercherò di essere quanto più breve possibile per dare spazio ringrazio anche io ancora guido per essere venuto per aver fatto questa bellissima presentazione vi ho fatto una presentazione generale io vi invito ecco non posso condividere lo schermo comunque non c'è problema vi invito fra i lavori in cui guido ha parlato a leggere quanto prima il suo articolo intitolato economic inequality in preindustrial times europe and beyond che è uscito sul journal of economic literature nel 21 è uno dei testi che sono stati citati uno degli ultimi grafici che avete visto è presente anche perché appunto serve a leggere il lavoro ora io vado a una serie di punti fondamentali come sociologo economico e cioè e poi ora puoi condividere sì ma soltanto per fare un po' di pubblicità a guido se vuole così questo è il testo che vi consiglio di leggere potete fare uno screenshot così non c'è bisogno che vi disturbi troppo con la condivisione però vi consiglio veramente di leggerlo molto interessante c'è tantissima letteratura dentro e ci sono molti dei discorsi che guido ha fatto anche se poi la presentazione di guido da persona generosa quale ha arricchito ulteriormente rispetto all'articolo però diciamo il primo punto di partenza per cui con Gabriele abbiamo voluto invitare guido è che come sociologi economici e nelle corde della nostra disciplina dai padri fondatori poi avere un approccio che sia comparativo storico quindi trattando fra le varie tematiche quella del funzionamento del mercato del lavoro le disuguaglianze il ruolo delle istituzioni l'approccio di guido è estremamente complementare è estremamente interessante per noi sociologi economici che dà una profondità su dimensioni di lungo periodo e fatti stilizzati appunto poi come scrive è estremamente interessante le altre buone notizie che dà di nuovo per i sociologi economici e per approcci diciamo di politica all'economy è che rispetto a molti altri tipi di approcci possibili che ti spiegano la disuguaglianza o il caldo della disuguaglianza in base a variabili strettamente legati all'andamento economico e variabili demografiche la spiegazione di guido è molto più interessante per noi perché è una spiegazione in buona parte diciamo istituzionalista politico istituzionale diciamo così e che guarda in maniera molto attenta all'interazione che c'è fra trasformazioni economiche trasformazioni demografiche di vario tipo e adesso semplificando sotto demografia ci metto anche l'epidemia che è soltanto al centro una parte della sua presentazione cioè come un'epidemia cambia dei fenomeni come le disuguaglianze ma in realtà quello che lui ci fa vedere rispetto a gran parte della letteratura precedente che io conosco perlomeno è esattamente l'interazione tra variabili economiche e variabili demografiche incluse le epidemie le guerre che impattano pesantemente sugli aspetti demografici e l'interazione rispetto al funzionamento delle istituzioni il confronto che fa fra la peste del 600 e la peste nera è molto interessante da questo punto di vista perché fa vedere come rispetto appunto lui citava uno degli autori più almeno tra gli storici che sono più conosciuti su questo cioè Scheidel fa vedere come in realtà non sia così semplice la storia del dire occorrono i quattro cavalieri dell'apocalisse per abbassare per abbassare il livello di inequality appunto Scheidel nella sua ipotesi parla di guerre mondiali epidemie come la peste nera e fa una ricostruzione storica come fa Guido Guido ci fa vedere che spesso questa non è una condizione necessariamente presente occorre capire come le regole di funzionamento di uno stato accentuano le conseguenze in un senso o in un altro in termini di disuguaglianze di questi fenomeni drammatici come ad esempio le pandemie o altri fenomeni quindi appunto diventa interessante andare a vedere la parte che da sociologi economici la parte che Guido dedica al funzionamento e la regolazione dello stato ecco perché di nuovo vi invito era chiara una sua presentazione ma vi invita a leggere i testi di Guido tutta la parte dedicata appunto il sistema fiscale quanto è regressivo o no noi attualmente sui sistemi fiscali attualmente siamo abituati a parlare di quanto sono progressivi o meno un'ottica di lungo periodo ci dà chiaramente l'idea di come per secoli il tema non fosse quanto riusciamo a rendere progressivo un sistema fiscale ma quanto lo riusciamo a rendere meno regressivo il funzionamento dei governi in generale il funzionamento della regolazione della successione dei patrimoni quello che riguarda la ricchezza e quindi poi anche i redditi cioè ricostruisce questi fenomeni che chiaramente aprono uno spazio molto interessante di collaborazione fra storici economici e politologi da un lato istituzionali storico istituzionalisti e sociologi con un approccio comparativo di politica all'economy sulla ricostruzione di questi appunto di questi elementi di svolta e cioè come si arriva dentro un dato a contesto ad una regolazione di un certo tipo della tassazione che ha un effetto e interagisce anche come abbiamo visto importante anche a diciamo in qualche maniera indipendentemente dal livello di sviluppo economico quindi rispetto alla vulgata che c'era fino a dieci anni fa e che probabilmente dopo la crisi in parte già è cambiata anche in contesti come l'Oxley Guido ci conferma che non esiste scientificamente una correlazione robusta fra sviluppo economico e disuguaglianze questo trade off è appunto di nuovo mediato perlomeno sulla base di dati che sono molto più robusti di quelli che in genere si utilizzano e che gli economisti usano che riguardano periodi di tempo molto più brevi e in genere contemporanei con uno sguardo e un respiro secolare queste correlazioni non si vedono ora chiudo con un paio di domande per Guido e poi lascio spazio alla discussione così abbiamo una mezz'ora di discussione una domanda è questa io ho trovato chiaramente sia risultati estremamente interessanti sia la creatività nelle metodologie oltre che una pazienza certosina nel cercare le fonti quindi ti chiederei se appunto a titolo informativo ci può dire un po' di più quali sono le direzioni verso cui si sta andando e come dire in maniera cattiva gli storici economici usano per ricostruire anche fasi cioè per costruire fenomeni legati alla disuguaglianza di rendito e di ricchezza in fasi storiche in cui i dati più documentali sono meno presenti in parte ne ha parlato due domande specifiche invece sui contenuti diciamo così e sugli sviluppi qui ci fa vedere molto bene alcuni meccanismi tramite cui le istituzioni giocano e influenzano il riprodursi l'ampliarsi o il diminuire delle disuguaglianze rispetto ad altri fenomeni demografici più generali ci ha fatto vedere appunto il sistema fiscale ci ha fatto vedere come funzionano i meccanismi di successione dei patrimoni ecco gli chiedo se la ricerca in ambito di storia economica sta guardando anche in altre direzioni cioè altre potenziali istituzioni da ricostruire in livello micro come lui fa ultima domanda accumulazione di capitale umano è chiaro che parlare di accumulazione di capitale umano allora questo scusate perché parlo di accumulazione di capitale umano e chiudo veramente è l'ultimo punto che Guido ha fatto sulla pandemia attuale e sull'impatto sulle disuguaglianze beh qui fra noi ho visto vari amici presenti che studiano a partire da Gabriele ci sono Giovanni Gianluca e molti altri che si occupano di disuguaglianze sull'istruzione uno dei dati più preoccupanti nel breve periodo di quello che sta succedendo sulla pandemia è esattamente l'impatto in termini di disuguaglianze negli apprendimenti e ci sono riflessioni su questo iniziano a esserci dei primi dati eccetera allora mi chiedo quanto questo approccio che noi stiamo vedendo un po' sul covid in qualche maniera possa essere applicato sull'impatto su capitale umano accumulazione di capitale umano nel corso del tempo a partire da quello che è successo ad esempio con la peste nera eccetera cioè c'è un filone che cerca di mettere in relazione per essere concreto come domanda Guido il tema delle disuguaglianze nei redditi e nella ricchezza rispetto anche al tema dell'accumulazione di capitale umano sapendo che anche qui è una sfida perché parlare di accumulazione di capitale umano nell'alto medioevo nel basso medioevo è un po' diverso che in quella che dovrebbe essere una società della conoscenza del ventesimo secolo quindi grazie ancora e non so se magari conviene sentire se ci sono altri interventi eccetera così mi do un po' di tempo per fare una risposta complessiva altrimenti rischio di aver monopolizzato le domande e gli stimoli intellettuali per Guido grazie ancora grazie Emanuele sì sono d'accordo con te direi che raccogliamo qualche intervento così poi diamo agio a Guido di rispondere per cui il floor is open fatevi sentire silenzio inquietante non vedo manine concine della manina alzarsi Fabrizio Scusa Fabrizio ti ho dimenticato prima non avrei dovuto ma non avevo visto che era quando avevo visto che era in presa in Italia di education Fabrizio prego grazie innanzitutto ciao Guido grazie mille per la presentazione che è stata interessantissima è sempre un piacere sentire sentire la tua sentire la tua la tua discussione dei tuoi risultati ho due ho due domande ho due domande la seconda più metodologica la prima cioè mi è molto piaciuto il confronto fra la pesta del 300 e del 600 la storia la spiegazione che dai da un lato con la reazione delle classi alte per cui creiamo nuove istituzioni se non formali comunque comunque nella pratica è molto convincente peraltro però poi pensandoci un pochino di più la un elemento fondamentale della spiegazione del 300 è che il lavoro ha più capacità di negoziare con il capitale quindi di riuscire a ottenere dei miglioramenti nelle condizioni salariali hai accennato brevemente al fatto cioè perché questa spiegazione non si applica nel 600 hai accennato brevemente che il sud Europa in molti casi non tiene botta mi sembra che hai detto quindi chiudono le attività però mi chiedo in questo caso comunque dovremmo osservare una riduzione della disuguaglianza in altre aree in altre aree dell'Europa che sono più dinamiche quindi non so forse è un suggerimento troppo specifico sempre non voglio mettere un puntino su lei però in generale la spiegazione mi è sembrata molto solida un altro elemento a cui stavo pensando però è vero anche nel 300 che se c'è una mortalità del 50% il sistema è ereditario è completamente guaritario non è automatico che questo porti a una riduzione della disuguaglianza nella misura in cui muoiono metà dei fratelli e fra le classi ambienti ci dovrebbe essere un aumento della concentrazione della ricchezza quindi mi chiedo questa dinamica demografica dentro la famiglia come possano essere tenute conto se non pensando che ci sia anche una mortalità differenziale che probabilmente non c'è stata però mi chiedevo la storia è bella la storia si incastra tutto benissimo però poi pensandoci un pochino di più mi sono venute in mente queste implicazioni che se riesce a dimostrare che sono così la rendono ancora più forte la seconda domanda è sulla movità sociale è interessantissimo ovviamente sono molto curioso in attesa di vedere nuovi risultati però mi sembra che corresimi se sbaglio che soprattutto per i studi locali questo si basi sull'idea di una stabilità geografica delle famiglie nel tempo e quindi mi chiedo come la mobilità geografica possa creare o crea un problema un problema per te e quindi se in un certo senso ci sia una sottostima nella misura in cui chi si ferma sono soltanto i ricchi e i poveri senza altre possibilità però mi chiedo se uno studio di questo tipo seguendo questi estimi si possa fare soltanto nelle piccole comunità per la capacità di rintacciare da una generazione all'altra assumendo che non ci sia mobilità geografica ok grazie grazie Fabrizio altri abbiamo spazio ancora per un paio di persone almeno se comincio a rispondere poi magari va bene vado in ordine quindi grazie sia Emanuele sia a Fabrizio per le ultime domande che sono veramente molto pertinenti allora sul fatto di dover essere creativi è assolutamente vero perché creativi con l'uso delle fonti è assolutamente vero perché appunto non c'era una letteratura consistente prima c'era in realtà scusate una una scuola di studi sugli estimi che però aveva fatto delle scelte metodologiche che in qualche misura poi hanno portato al suo fallimento era essenzialmente era la scuola era la scuola di stadio economico marxista cresciuta attorno ad Alpane quindi vari personaggi che avevano studi molto importanti ma avevano alcuni obiettivi rivelatisi poi impossibili quindi noi abbiamo adottato un approccio allo studio degli estimi diverso accettando alcuni limiti in modo piuttosto esplicito ma che ci hanno consentito anche di sfuggire finora almeno a questi in altri casi abbiamo dovuto affrontare problemi diversi nel caso dell'Inghilterra per esempio il problema è che c'è un grosso vantaggio nell'Inghilterra cioè che in un anno come dire in un dato anno già a partire dal 200 fondamentalmente tutte le counties inglesi sono tassate allo stesso modo quindi uno in teoria potrebbe comparare tutte le counties per cui esistono fonti alla scala nazionale il problema però è che hanno una barra di esenzione molto elevata quindi uno rischia di perdere anche il 40% dell'operazione allora lì abbiamo sviluppato addirittura un pacchetto stata proprio per sotto ipotesi che la distribuzione tendenzialmente sia log normale e conoscendo per stime indipendenti la quota di operazione mancante tutta a sinistra della distribuzione osservata perché sono strettamente quelli sotto una certa soglia stimare quali sarebbero quali sarebbero quali sarebbero la distribuzione qualora appunto potessimo completarla con queste ipotesi a partire dai dati osservati per dire andando ancora prima e qui Scheidel è veramente forse la persona che ha Scheidel è insomma il suo gruppo che ha lavorato su questo tema si usa molto specialmente per l'età classica si usa l'archeologia perché non vi sono se non veramente pochissime fonti scritte utilizzabili in questo modo quello che si può utilizzare invece è il mutare della distribuzione delle superfici delle case quando si può osservare una comunità in diversi momenti quindi tra i secoli e utilizzare poi quello per arrivare all'estima di disuguaglianza per cui ad esempio si può arrivare a dire che la disuguaglianza in Britannia declina all'acute dell'impero romano quindi le case diventano più piccole in media ma anche più uniformi e questo è uno dei discorsi che fa Scheidel e dice che l'acute dell'impero romano è uno dei fattori che portano alla riduzione della disuguaglianza un lavoro che ho in corso con un collega con Alfonso Carbaglio che è un collega messicano invece ha a che fare e qui diciamo che è stato molto interessante per me con la disuguaglianza nell'impero messicano scusate l'impero azteco prima della conquista allora in questo caso avevamo la possibilità visto che sono conservate alcune fonti immediatamente post conquista che però riproducono dei dati pre conquista conosciamo ad esempio quanto ogni singola provincia progetto dell'impero azteco veniva tassata e anche sulla base di fonti archeologiche quindi sia fonti documentali sia fonti archeologiche abbiamo potuto ricostruire le social tables per per le varie province dell'impero azteco e anche avere qualche indicazione sui livelli di ricchezza specifici medi specifici per ogni provincia guardando ai dati archeologici che ci dicono qualcosa sulla densità abitativa chiaramente in questo caso l'ipotesi è che nelle province più ricche fosse una popolazione più densa se questo è vero non siamo riusciti quindi ad avere una stima alla disuguaglianza dell'impero si tiene conto della disuguaglianza entro le province tra i diversi casi sociali dell'impero e tra le province tenendo poi presente il fatto che è una struttura imperiale fortemente estrattiva in cui ad esempio c'è una nobiltà nelle tre città-stato che hanno fondamentalmente costruito l'impero che a seconda anche delle dinamiche politiche che hanno portato le diverse province a essere controllate dall'impero porta a un prelievo diretto dalla periferia al centro molto più forte eccetera insomma anche questo è stato piuttosto interessante per arrivare invece alla domanda sulle altre istituzioni beh prima di tutto mi viene da dire che a livello europeo l'impatto distributivo dei sistemi fiscali è stato studiato molto poco perché la letteratura storica economica si è concentrata e continua a concentrarsi sulla capacità fiscale che è presa pure a sua volta come un indicatore di sviluppo economico secondo me questo ha anche è un po' è un po' limitativo ecco e io penso che adesso qualcuno cominci interessanti a questi temi ma altrimenti finché abbiamo cominciato noi a guardare questi aspetti con pochissime eccezioni per esempio uno studio dell'Olanda però ecco è un tema che era stato sostanzialmente lasciato ai margini per quello che riguarda invece quello che secondo me dovremmo studiare dal punto di vista del funzionamento micro istituzioni beh io rimango molto molto curioso sul funzionamento pratico delle istituzioni caritative specialmente la pubblica di Venezia e altre aree in cui erano molto in cui erano molto sviluppate perché sono veramente un tassello fondamentale in una società in cui la sostanzialità deve essere assicurata perché altrimenti la stabilità sociale e politica non verrebbe assolutamente assicurata perché le rivolte in un contesto preindustriale sono una cosa che si verifica puntualmente quando la popolazione ritiene che qualcuno gli sta approfittando di loro quindi attenzione chiaramente è un contesto diverso quindi quello che è accettabile è diverso rispetto a quello che sarebbe accettabile oggi ma c'è comunque idea di giustizia e di ciò che è dovuto anche agli strati più umili che permea quella società quindi il funzionamento di questa prospettiva appunto di lungo periodo cioè come queste cambiano proprio reagendo alla maggiore concentrazione secondo me delle risorse economiche secondo me sarebbe molto interessante da studiare ma al momento ancora non l'ha fatto nessuno e sulla base della letteratura precedente visto che avevano obiettivi di ricerca diversi è anche molto difficile quantificare la beneficenza nel tempo noi non siamo riusciti a farlo nel libro prima o poi bisognerà tornare sul tema e cercare di capire che cosa si può fare probabilmente in quel caso tornando tornando in artigo ecco invece l'accumulazione di capitale umano è un ottimo tema la cosa interessante però è che se guardiamo quelli che hanno studiato la prospettiva storica di lungo periodo l'impatto delle pandemie sul capitale umano tendenzialmente si sono ben guardati dal parlare di distribuzione perché la storia che si racconta solitamente per la peste del 300 per esempio è che si muoiono un sacco di persone però poi dopo il reddito pro capita aumenta la speranza di vita diminuisce ma questo sport di paradosso si diventa più ambiziosi su ciò che si può fare la propria vita magari più breve ma più ambiziosi quindi anche in termini appunto di sviluppo di skills ci sarebbe una una spinta positiva il problema invece però è dal mio punto di vista è che il pro capita ci dice pochissimo in un contesto in cui non possiamo presumere che la distribuzione non cambi perché cambia la distribuzione nel tempo quindi come dire va bene il discorso della peste del 300 perché sappiamo tendenzialmente che l'useguaglianza è diminuita poi però siccome queste cose vengono messe in modelli che ignorano completamente la distribuzione e traggono conclusioni sul lungo periodo serviva poi anche delle conclusioni o diciamo proprio credibili o anche francamente errate come quando si dice alcuni hanno detto che appunto i i cavaliere apocalista sono i cavalieri della crescita sostanzialmente ma basta guardare al caso la peste del 600 per farsi venire tantissimi dubbi in merito no? perché questa cosa magari funziona nel contesto della peste nea per tante ragioni ma non funziona in altri contesti e venendo alle domande di Fabrizio Bernardi allora ecco la domanda sulla peste perché non vediamo la peste del 600 una riduzione di disuguaglianza nel 600 in nord Europa beh la risposta secondo me in questo caso di natura puramente epidemiologica e qui io ho studiato direttamente l'impatto differenziale demografico anche delle pestilenze del 600 nel nord e nel sud dell'Europa il fatto è che le pestilenze del 600 nel sud dell'Europa Germania compresa ma lì c'è il problema del guerri dei 30 anni quindi è impossibile distinguere le cose questi eventi sono strutturalmente diversi rispetto a quelli che si verificano nel nord del continente per tante ragioni uno perché sono le singole pestilenze nell'Europa sono di entità molto minore quindi sono molto più frequenti in Italia non conosco nessuna comunità colpita più di che una singola volta dalla peste nel corso l'intero Londra è colpita sei volte dalla peste nel corso dell'estero d'accordo ma se neanche mettiamo assieme tutte le morti causate da tutte le pestilenze che hanno colpito l'Inghilterra nel corso del 600 non arriviamo mai a un impatto neanche lontanamente comparabile a quello che la peste del 1930 ha in un anno e mezzo fondamentalmente nel nord Italia quindi anche il fatto che siano non solo più più morti ma anche concentrate in un tempo molto breve fa sì che l'impatto distributivo sia tendenzialmente molto diverso quindi il discorso che facevo io cioè sul fatto che data un tasso di mortalità comparabile ci aspetteremmo eventualmente una riduzione una disuguaglianza beh cade per il nord perché il tasso di mortalità in quel caso non è comparabile quindi ecco in breve è la risposta più semplice per quel che riguarda invece la mobilità geografica hai assolutamente ragione per la peste del 300 che fondamentalmente come dire il cui come dire impatto su mobilità può essere fondamentalmente studiato solo in Toscana questo è però tendenzialmente impossibile perché teniamo presente che il problema della Toscana nel 300 è che i cognomi non si utilizzavano ancora cosa che rende difficilissimo stabilire link nominativi dentro una singola comunità immaginati se cominciamo a immaginare un trascimento di popolazione il mio principio questo lavoro quindi considerare anche la mobilità geografica sarebbe possibile in almeno alcuni territori nel 600 quindi ad esempio Ivrea e l'area del Canavesa torna a Ivrea che ha anche una certa unità archivistica se vogliamo di fonti archivistiche o la provincia di Padova ci stiamo lavorando il quadro rimarrà sempre incompleto perché questo era tra l'altro uno dei limiti con cui si è scontrata la scuola di Dalpane decenni fa il punto è che chi esce dall'area che noi possiamo studiare che è un'area anche amministrativa non possiamo immaginare di riuscire a recuperarlo uno perché magari mancano le fonti e due perché si tratterebbe di un tipo di approccio impossibile anche nel contesto relativamente generoso di un progetto europeo in un contesto in cui comunque si possono mettere insieme team di ricerca anche di 10 persone ecco ma quello sarebbe impossibile anche in quel contesto lì invece vedere gli scambi entro entro le più studi scritte si può fare nel caso per esempio di Ivrea si vede molto bene come la peste del 1630 apre ad esempio degli spazi fisici nella città che consentono l'immigrazione di abitanti poveri dalle campagne che tra l'altro è uno dei driver dell'aumento di disuguaglianza nelle città dopo la peste del 1630 perché entra popolazione popolazione più povera e quindi se io stimo la disuguaglianza sui residenti in un certo anno poi tendenzialmente sarà aumentato ma che aumenta anche nelle campagne quindi l'interazione ecco è un pochino più complicata dal punto di vista distributivo però ecco in quella dimensione della novità sociale si vede molto bene in questo caso e dicevo difficile studiarla in modo sistematico per ragioni documentarie e per la peste del 300 è fondamentalmente impossibile a meno di non trovare per qualche altra parte di taglio d'Europa delle fonti disponibili tra l'altro in un contesto geografico abbastanza omogeneo e in quel caso con però una popolazione che già magari usava i cognomi che sarebbe il caso ad esempio del Piemonte però Piemonte non si può fare questo lavoro e allora in quel caso forse sì però tendenzialmente per la peste nera io credo che sia impossibile per il 600 nel principio in alcuni luoghi è possibile ci stiamo lavorando chiaramente è piuttosto oneroso mi fermo qua per lasciare spazio ad altre domande c'è un intervento di Giovanni Abbiati sì ciao Guido grazie mille per la meravigliosa presentazione dunque io volevo chiederti un chiarimento in realtà su un commento finale che hai fatto in quanto su cui immagino che tu non abbia dati ma dato che l'hai citato te ne chiedo conto dunque osservando le dinamiche di lungo periodo della disuguaglianza e riferendoti al lavoro dei Scheidel tu fondamentalmente correggimi se sbaglio se ho interpretato male hai giustamente messo in luce che non esiste un effetto meccanico dei cavalieri dell'apocalisse sulla disuguaglianza perché questi il loro impatto cambia a seconda delle condizioni politiche e socio-economiche però hai anche osservato che in qualche modo la disuguaglianza la creiamo noi il livello della disuguaglianza lo decidiamo noi sulla base ad esempio delle nostre preferenze rispetto alla tassazione e che quindi anche l'altra legge che individuava Scheidel ossia Scheidel il suo gruppo di lavoro e la letteratura la letteratura a cui fa riferimento è fondamentalmente quello che l'osservazione che in assenza di uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse più condizioni di contorno favorevoli la disuguaglianza tende ad aumentare per la capacità fondamentalmente delle élite di capitalizzare sulla propria posizione e di trasferirla alle generazioni successive ecco il mio dubbio rispetto a quello che hai detto tu cioè rispetto al fatto che noi in qualche modo decidiamo il livello di disuguaglianza o possiamo in teoria decidere il livello di disuguaglianza che vogliamo nasce dall'osservazione del fatto che le condizioni meccaniche diciamo meccanico demografiche e sociali che permisero la grossa il grosso abbassamento della disuguaglianza nei due dopoguerra erano anche funzione del fatto che c'era e esisteva una moltitudine di di cittadini pesantemente armati pesantemente per l'epoca però una moltitudine di cittadini in armi abituati all'uso delle armi e che le sofferenze che avevano provato spingevano non solo le classi basse ma anche le classi medie in qualche caso anche le classi alte a essere concordi politicamente per un abbassamento della disuguaglianza accettando delle aliquote di tassazione sui redditi alti pesantissime quelle a cui fanno riferimento adesso nei dibattiti americani famoso 90% di tassazione sopra un certo livello di reddito però il fatto di essere d'accordo il fatto di essere d'accordo tutti insieme come società per imporre una così pesante tassazione è stata conseguenza di uno dei cavalieri dell'apocalisse io volevo chiederti quindi se tu ritieni che in assenza di qualche evento completamente rivoluzionario catastrofico al momento tu vedi una possibilità una possibilità di un consenso sociale attorno a una tassazione così pesantemente progressiva perché sappiamo che la riduzione della disuguaglianza è avvenuta solo in presenza di tassazioni mostruosamente progressive possiamo dire anche la Scandinavia in tempi di pace ha comunque aumentato i propri livelli di disuguaglianza dato che anche dopo questa pandemia che è stata comunque socialmente distruttiva non mi sembra che non siamo assolutamente d'accordo su questo mi chiedo appunto se in assenza di in assenza di shock esterni ancora più pesanti non si possa essere d'accordo per tornare a parlare del 90% di tassazione grazie è un ottimo è un ottimo punto allora vabbè prima di tutto la pandemia aiuta no? da questo punto di vista e qui c'è un esempio storico interessante quello del del colera nell'ottocento perché quali che poi siano le motivazioni dell'elite quando diventa chiaro che il colera si diffonde nei contesti urbani degradati le elite politiche concordemente li bonificano tra l'altro chi ci abitava magari non era neanche d'accordo nell'immediato ma nel mio lungo periodo ho fatto proprio gli stati più poveri che hanno beneficiato di questi miglioramenti che sono riflessi in una riduzione delle disuguaglianze di salute per esempio e poi quello anche impattato sull'eguaglianza di reddito eccetera e il consenso si è catalizzato grazie allo shock esterno ovviamente il caso oggi è differente però visto come si ricomincia a discutere ad esempio dell'opportunità o meno anche semplicemente di una imposta una tantum sui ricchi negli Stati Uniti per dire quindi in un contesto sociale che oggi è diventato fortemente avverso attrazione in generale può darsi che qualcosa si possa fare senza stimolo da parte senza stimolo diciamo esterno da parte di uno shock beh allora qui è un'ottima domanda mi viene da dire uno che se guardiamo all'evoluzione per esempio delle aliquote dell'imposta di successione di fatto queste cominciano a salire prima la seconda guerra mondiale quindi nel più tra le due guerre quindi non è è vero che c'era stata la prima guerra mondiale però il contesto comunque è piuttosto è ancora piuttosto diverso e poi il momento in cui la progressività comincia a essere ridotta tendenzialmente è il come dire lo shift ideologico innescato da Reagan e Thatcher nonostante il fatto che le riforme fiscali di Reagan in pratica forse non sono state regressive perché contestualmente riducevano le operazioni eccetera ma chiaramente hanno contribuito in modo determinante a creare questa 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 piattaforma politica che sembra vedere per esempio come un bene in sé la riduzione del numero di scaglioni che io trovo sempre piuttosto piuttosto peculiare perché storicamente non è facile capire come sia possibile c'erano 30 scaglioni in Italia negli anni 70 e adesso si disputa se averne 3, 4, 2, 0 non si capisce quindi quel che voglio dire è che qui c'è anche tutto un tema di mutamento politico e anche ideologico che in qualche misura impatta in modo in modo in modo importante ma secondo me non va esclusivamente nella direzione che dice che dice Scheidel nel senso non è l'automatico inevitabile conseguenza dell'azione delle lite economiche sostanzialmente ma riflette anche dei processi sociali in qualche misura io sarò troppo ottimista però in qualche misura più aperti quindi io non è che io onestamente non vedo come come facile un minutamente radicale situazione nei prossimi anni non sono neanche convinto che si possa o si debba tornare a un'aliquotà del 90% onestamente perché il mondo è diverso quindi bisogna anche prenderne atto un mondo completamente diverso i capitali sono anche più mobili quindi un'aliquotà del 90% chi la pagherebbe no? Dal mio punto di vista cosa è importante però è preservare il principio preservare quello che rimane la progressività del sistema e magari introdurre qualche correttivo un'altra questione su un altro tema su cui il dibattito è fondamentalmente ideologico e quindi in qualche misura potrebbe mutare sulla base dei cambiamenti culturali e quello dell'imposto di successione e il collegato tema della tassazione perché riguarda l'Italia la tassazione è la prima casa che è una questione veramente veramente peculiare in una prospettiva storica per quanto poi anche a Bergamo già in età moderna prima casa forse è sempre la tassazione sono degli antecedenti però il problema della tassazione della ricchezza in prospettiva storica riflette veramente dei cambiamenti culturali poi ovviamente quanto questi cambiamenti vengono in qualche misura favoriti dell'azione di certe lobby è poco chiaro sicuramente è poco chiaro nel contesto americano dove le lobby sono molto meglio finanziate più potenti eccetera noi ovviamente certe cose le recepiamo a distanza sicuramente sono temi che varrebbe la pena esplorare io sono forse un po' più ottimista sulle possibilità per il futuro perché mi pare che un minimo di consapevolezza che è un po' di cooperazione a livello sociale anche tra stati quindi l'European Recovery Plan io lo considero un successo per l'Unione Europea immagino che qualcosa di quel tipo di approccio potrebbe poi percolare anche internamente agli stati e vediamo dipenderà ovviamente molto anche dalla qualità delle politiche che verranno introdotte e dalla qualità dei politici che disegneranno quelle politiche però insomma qui poi rischiamo di entrare in temi sensibili a fronte della votazione in corso per esempio stavo pensando esattamente alla stessa cosa ma mi piace in fondo finire con una nota di ottimismo e allora ancora ringrazio moltissimo Guido tutti coloro che sono intervenuti Cecilia Manzo che ha fornito come sempre la tecnostruttura behind the scene e appuntamento a tutti per i prossimi webinar della Sise arrivederci a tutti e buona serata grazie grazie a tutti grazie ancora Guido ciao grazie a tutti grazie a tutti